Siamo molto grati ai magistrati di Foggia, alla Direzione Nazionale Antimafia e alle forze di polizia che hanno operato oggi un'importante operazione che di fatto segna un duro colpo alla mafia foggiana, una delle mafie più pericolose, più violente e più pervasive. La lotta alla mafia è una priorità del governo, quindi i magistrati e le forze di polizia avranno sempre il governo dalla loro parte e a sostegno delle loro azioni.